Oggi in questo nuovo episodio della Pixelmon ragazzi impazziamo, si l'ho detto diventiamo matti a tutti gli effetti perché porteremo la mia squadra Pokémon tutta quanta al 100 L'ho deciso ragazzi lo faccio soltanto perché negli scorsi episodi avete lasciato tantissimi mi piace Quindi in questo nuovo episodio speciale della Pixelmon perché facciamo i matti proprio completamente i matti Dobbiamo ragazzi portare tutti quanti i Pokémon Legendary al 100 quindi dovete lasciare anche voi 6.000 mi piace Questo me diciamo mi sta eliminando tutta la squadra Pokémon ragazzi benvenuti e comunque benvenuti questo nuovo episodio della Pixelmon Allora partiamo subito cercando di eliminare un bel Pokémon Boss Legendario ma perché lo faccio ragazzi perché io voglio farmare talmente tante di quelle caramelle rare Che ho con me nell'inventario in questo momento che se vi mostro quante ne ho impazzite insieme a me eh Ragazzi io ne voglio farmare ancora di più di quelle che ho perché ne ho 30 ragazzi è tutto il giorno che farmo caramelle rare Per migliorare la mia squadra Pokémon oggi esageriamo ragazzi ve l'ho detto Quindi noi oggi oltre che a portare la nostra squadra Pokémon al 100 creeremo la squadra Pokémon solamente per le spedizioni Questo cosa vuol dire? Creeremo una squadra Pokémon adatta solamente per andare a catturare i Pokémon Legendari E una squadra Pokémon adatta per sfidare solamente le palestre e i Dungeon più forti Questo perché ragazzi? Perché ho notato che quando poi vado a sfidare i Pokémon Legendari che andiamo a catturare Abbiamo dei Pokémon che sono veramente troppo forti sono praticamente quasi tutti quanti ormai al 100 Tecnicamente questa è la nostra squadra ufficiale guardatela insieme a me perché è veramente veramente OP ragazzi Ormai la conosciamo tutti quanti a Emoria Partiamo con un bellissimo Charizard al 100 guardate qua e lui è veramente veramente il capo della mia squadra Lui è il Pokémon più importante che abbiamo e che abbiamo sin dall'inizio ed è appunto a livello 100 è il primo Pokémon che abbiamo portato al 100 Poi abbiamo lui il leggendario che non togliamo mai e poi mai dalla squadra ragazzi ed è Eternatus Lui è uno di quei Pokémon leggendari che non posso togliere che non posso cambiare e anche lui è al 100 se vi ricordate ragazzi Poi abbiamo Necrozma fuso insieme al nostro bellissimo Lunala e crea un Ultra Necrozma assieme a questa Ultra Necrozium Che è veramente veramente OP Poi abbiamo uno di quei leggendari che ragazzi all'interno delle battaglie Pokémon è uno dei più importanti perché ha le mosse più utili Per esempio come Hypnosi, come Dark Pulse, Dark Ray Il mio sogno sarebbe quello di poter catturare un Dark Ray leggendario Shiny Però per ora non ho ancora trovato questo dungeon nella Ultra Dimensione Questa cosa qua è un po' in pesa perché lo vorrei Poi abbiamo lui, abbiamo Mewtwo al 94 e oggi lo porteremo al 100 quanti diamine di Pokémon ci sono Allora che mi date fastidio andiamo su ad analizzare la nostra cosa direttamente nel laboratorio ragazzi Perché qua abbiamo Mewtwo dicevo Shiny che è molto molto forte Lui ragazzi è il Mewtwo forte che abbiamo fino adesso Per poi arrivare all'ultimo con questo Groudon che diventa Archeo Groudon Che a malapena ci sta dentro la stanza del laboratorio Bene ragazzi il nostro lavoro di oggi qual è? Innanzitutto portare tutti quanti al 100 quelle caramelle rare che abbiamo In più dobbiamo analizzare i Pokémon leggendari che nel tempo abbiamo catturato Perché ragazzi sono veramente tantissimi guardate qua cosa è successo È tornato Azelf Questo vuol dire che sono tornati anche tecnicamente il Kyurem Che è questo calcolo nero Cioè tutti quanti i Pokémon che il Team Rocket aveva rubato Anche Articunot e quante queste cose qui sono tornate Però il nostro intento in questo momento è quello di creare una squadra Pokémon Adatta solamente per le battaglie dei Pokémon leggendari Quindi facciamo una cosa Dato che ho già la mia armatura tutta quanta fatta per bene Della ultradimensione Il mio intento sarebbe quello di prendere Andare direttamente nella ultradimensione Perché vi ricordate Fermi un attimo Ho visto un Pokémon o più mi sbaglio Bello Dragonite ragazzi è uno dei miei Pokémon preferiti se vi ricordate Però l'abbiamo preso all'inizio serie Dopo un po' poi l'abbiamo snobbato un pochino È un po' un peccato Quindi se superiamo i 5000 mi piace Vi prometto che prenderò Dragonite Lo porterò al 100 E lo faremo anche diventare un bel Pokémon Molto forte e molto interessante Anche se comunque Pokémon tipo Dragon abbiamo veramente tantissimi Comunque facciamo così Andiamo all'altare Oggi è un episodio molto chill della Pixelmon Perché andiamo sempre alla cattura di qua a destra a sinistra Oggi andiamo solamente a migliorare la nostra squadra Pokémon Perché mi avete chiesto di portare tutta quanta la mia squadra più forte al 100 E poi di conseguenza Migliorare tutti quanti i Pokémon che abbiamo preso Era questo qua il punto giusto Sì eccolo lì Tutti quanti i Pokémon legendari che abbiamo preso nel tempo Perché prima o poi doveva arrivare questo momento Anche perché il Team Rocket non è per niente stato sconfitto Quindi più i Pokémon legendari che abbiamo sono forti Meglio è Allora diciamo che la nostra squadra per ora Questa qui è completamente perfetta Se non che dobbiamo portare quindi gli ultimi Pokémon al 100 Ragazzi io direi partiamo dal Groudon Groudon ha bisogno di 10 caramelle rare Quindi vediamo quante gliene... 10 gliene diamo tutte Lo portiamo direttamente al 100 Ragazzi è un Groudon così al 100 È una roba proprio bellissima da vedere secondo me Ok Groudon al 100 lo abbiamo portato ragazzi Poi dobbiamo portare al 100 anche tecnicamente il Necrozma Quindi portiamo il Necrozma al 100 in tutto ciò Quindi quanti ne mancano di... Cosa è successo? Blaziken! Ma da dove mi sei sbucato? Ma vi pare norma... Però Blaziken ragazzi sarebbe bello da prendere Perché io vorrei catturare anche tutti quanti i Pokémon starter Che abbiamo all'interno della Pixelmon Quindi lui che è Blaziken che arriva dal Torchic Sarebbe bello dato che abbiamo già un bel Typhlosion shiny Che dopo vi mostrerò che diventerà parte utile delle nostre squadre Questo Blaziken comunque mi piacerebbe da prendere Quindi facciamo così Proviamo di Velox Ball a prenderlo così di ignoranza Un bel Blazikenino da prendere anche se non è shiny Lo voglio catturare io eh Allora facciamo così Vabbè per non sapere leggere e scrivere Non partiamo in battaglia con Mewtwo Ma col Dark Ray in questo modo Vorrei vedere la battaglia signora Pixemon grazie Non Charizard Cosa sta succedendo? Quanti bug! Ma che diamine perché era uscito anche Charizard? Allora Calmiamoci tutti quanti un attimo per favore Aiuto! Ok grazie Allora voglio catturarlo con una Velox Ball io questo Blaziken Dato che nello scorso episodio l'abbiamo craftate A sto punto proviamo di Velox Ball E l'abbiamo preso No all'ultimo giro è uscito il campione Ma ci ha tolto un sacco di vita Ci ha tolto 40 Ma se li facessimo ipnosi ragazzi Ipnosi? Oh là perfetto Ora addormentato Andiamo di Velox Ball Ora potremmo tecnicamente catturarlo questo Blaziken Uno Due Tre Quattro Ho preso Blaziken ragazzi Questo mi piace Voglio proprio prendere tutti quanti i Pokémon starter Giusto per avere un mo' di collezionismo Poi continuiamo qua Necrozma è al 95 Quante caramelle rare ancora? Allora 5 vanno qua 6 Quindi 11 vanno qua Andiamo Portiamo da Rackrey al 95 Quindi Vabbè Praticamente tutta la squadra è al 100 ragazzi Riusciamo a fare Ovviamente è difficile farmare tante caramelle rare ragazzi Quindi si fa sempre il possibile Allora È al 99 E anche Necrozma ragazzi è arrivato al 100 Mamma mia Necrozma al 100 Anche ragazzi È un bel da vedere Allora Signor Mewtwo Shiny Lei anche andrà al 100 Cioè ragazzi abbiamo Mewtwo Shiny al 100 Ma ci rendiamo conto Poi chissà Kendal anche come sarà andando lui con i Pokémon Perché anche lui comunque piano piano sarà disperso in giro per il mondo Quindi prima o poi dovremmo sfidare Dovremmo sfidare Kendal Quindi se superiamo i 6.000 mi piace Sfideremo anche Kendal con la nostra squadra Chissà Lui come sarà messo Chissà Chissà Per finire è dove ho sparato il Mewtwo Shiny al 100 Vieni qua campione Prendiamo Dark Ray E portiamo lui direttamente al 95 Quindi lo portiamo Ok Dark Ray è al 95 ragazzi Ottimo Però vi dicevo ragazzi Dopo aver portato questi Pokémon Averli già migliorati con il Mewriliner Dovremmo anche fare una squadra nuova E io ho pensato appunto Alla mia squadra nuova di Pokémon Allora io vado nel box 7 E lascio giù tutti quanti i miei Pokémon Della mia squadra ufficiale Perché questa qui ragazzi È la mia squadra ufficiale Pokémon Però Ora Noi andremo a fare la nostra squadra ufficiale Pokémon Per andare a catturare i leggendari E partiamo così Typhlosion A livello 79 ragazzi Guardate qua Un bel Typhlosion shiny Che spettacolo L'ho livellato nel tempo ragazzi E l'ho portato al 79 Dopo poi lo miglioreremo al Mewriliner Poi Io direi Lasciamo giù al box 7 Graudon In questo modo Ora che possiamo farlo Mettiamo in squadra Raikwaza All'80 Solgaleo Versione Halloween All'70 Lugia Versione Shadow All'70 E questi Sono dei Pokémon incredibili Perché abbiamo un bel Pokémon Tipo fuoco Abbiamo Solgaleo ragazzi Che ha un Pokémon Tipo acciaio e psichico Che può essere anche molto utile Poi abbiamo con noi Lugia Che è un Pokémon clamorosamente bello Che è psico Volo Anche lui è un altro Pokémon Un Pokémon veramente Veramente fatto molto bene Anche con le statistiche Raikwaza ragazzi Secondo me non c'è neanche bisogno di dirlo Perché questa qui ha anche Dragon Ascent E lo fa diventare Mega Raikwaza Shiny E possiamo anche non discuterne Secondo me Poi 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 Nella nostra squadra di Pokémon Che abbiamo catturato Abbiamo anche un Mewtwo Il Dark Mewtwo E questo va direttamente Alla nostra squadra Abbiamo dei Pokémon Che comunque sono Molto simili tra di loro Quindi un po' per spezzare A me in questo caso Servirebbe un Pokémon Che può imparare Tante mosse diverse E vi ricordate Che io avevo preso Anche questo De Gigi Gas Shiny Secondo me Lui è il più adatto Per far parte Di una squadra Pokémon Adatta Per le catture Dei Pokémon leggendari Qua c'è un Galvantula Che continua a girovagare Per il mondo La mia sfera lancerò È a livello 50 Vabbè Ci può stare che è al 50 Ma io ho già un Galvantula In più Quindi questa qui è la mia squadra Per le catture di Pokémon A sto punto Io vado a farle imparare Delle mosse nuove ragazzi Quindi Moonbreener Allora Typhlosion Che è a 79 Vediamo Vediamo prima che mosse ha Questo Typhlosion Typhlosion Ha Mosse orrende ragazzi Quindi qua possiamo cambiarle Anche tutte quante Allora Che facciamo imparare Assolutamente Inferno Al posto di Lear Poi facciamo imparare anche Vediamo Vediamo Flamethrower ragazzi Subito lancia fiamme È per forza Da fare imparare A Typhlosion Quindi a posto di Quick Attacchi Lo facciamo subito imparare Poi Vediamo cos'altro abbiamo Uh Double Edge ragazzi Al posto di Giroball Assolutamente E come ultimo attacco Cosa puoi imparare Lavaplume Ha molti attacchi tipo fuoco Questo Typhlosion Però ragazzi Burn Up È veramente un ottimo attacco Ovviamente ragazzi Se voi avete Dei consigli ad armi Per far imparare le mosse Per cambiare magari Un Pokémon Con un altro tipo di Pokémon Ovviamente Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Che leggo tutto quanto Poi Cambiamo Dopo Typhlosion Andiamo di Rayquaza Ragazzi A Rayquaza Facciamo imparare Più mosse di diverso tipo Al posto di Metal Chlor Facciamo imparare Solar Beam Che è un attacco di tipo erba E ci può sempre servire Poi Vediamo qua cosa abbiamo Flare Blitz Anche ragazzi Sunsteel Strike Ci serve Wild Charge Ci serve Flash Cannon Io lo cambierei con Flare Blitz Ragazzi Che ci serve E se notate ragazzi Questo solo il Galeo Di Halloween Ha 4 attacchi Di 4 tipi diversi Ed è per questo Che è veramente Molto molto utile Poi Andiamo di Lugia Dark Lugia ragazzi Puoi imparare qualcosa di utile Dragon Rush Lo facciamo imparare Al posto di vediamo Di calmamente ragazzi Qua abbiamo tutti quanti attacchi Anche qua diversi uno dall'altro E fanno tutti quanti Comunque abbastanza danno Tra un Ancient Power Che toglie 60 E vediamo se abbiamo qualcosa Con cui possiamo scambiarlo o no Va bene così Va bene così Lugia Mewtwo ragazzi Mewtwo qua Bisogna un pochino migliorarlo forse E al posto di Di cosa Di amnesia Li facciamo imparare Un bel Psy Un Psy Strike Poi Ah Vediamo da qualche parte Confusione Laser Focus Speravo in un attacco Tipo ipnosi O una roba del genere Però purtroppo non ha Questo tipo di attacchi Che puoi imparare Fa niente E per concludere ragazzi Mi vogliamo un attimino Anche Regigigas Regigigas Che è un bel coltata zen Glielo faccio imparare Glielo faccio imparare Al posto di Stomp Assolutamente Poi cos'altro puoi imparare Vediamo Pound no Hammer Arm sicuramente E qualcos'altro di utile no Però Hammer Arm serve assolutamente Quindi al posto di Payback Un bel Hammer Arm Subitissimo Al nostro amico Regigigas Bene Ragazzi Abbiamo creato Anche la nostra squadra Pokemon Adatta per le battaglie E sono A pensarci La cosa bella ragazzi Della mia squadra Pokemon Per i leggendari Della mia nuova squadra Pokemon Tutti i Pokemon O Shiny O di versioni speciali Typhloson Shiny Poi abbiamo Raikwaza Shiny Che può diventare Un Mega Raikwaza Abbiamo questo Solgaleo Versione Shadow Abbiamo Lugia Versione Shadow Abbiamo Mewtwo Nella sua versione Shadow E per concludere Abbiamo Regigigas Nella sua versione Shiny Proviamo a muoverci un pochino Con tutti quanti i Pokemon Direttamente Guardate che cacchio abbiamo Ragazzi Ma che squadra Pokemon ignorante Bello 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 ragazzi Tutti quanti così Che si muovono Vedete ragazzi Poi non ho neanche snobbato Il Dark Mewtwo Che abbiamo appena catturato Mamma mia Che Pokemon Che abbiamo Qua davanti Abbiamo creato In questo nuovo episodio Della Pixemon Senza andare a fare catture Un po' di esplorazione Un po' di conoscenze nuove assieme Una squadra Pokemon leggendari Migliorata Al minimo dettaglio Bello 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 Ragazzi Spero che questo episodio Qua dalla Pixemon Un po' diverso Al solito vi sia piaciuto Perché oggi Non abbiamo catturato nessuno Ma vedrete Nei prossimi giorni Cosa succederà In questa serie Incredibile Che tanto vi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Se avete fatto Scegliete uno Due video qua davanti Mi raccomando È molto importante E attivate la campanina Secondo le notifiche Vi ricordo che tutti i giorni Escono due video al giorno Uno alle cinque mezza E uno alle sette e mezza Da Marche è tutto ragazzi Ciao ciao